a tutti e tutte quest'ultimo incontro del festival altri mondi altri modi che è giunto alla sua sesta giornata avrà come tema centrale quello della rivoluzione portoghese attraverso questo libro che si chiama riti di passaggio cronache di una rivoluzione rimossa portogallo immaginario politico 1974 75 di sandro moiso e giulia strippoli è un libro che si parla della rivoluzione portoghese però ci è sembrato di leggere in questo libro anche un riferimento al presente alla contemporaneità intanto partiamo dalla rivoluzione portoghese insomma lo lo dite molto bene nel libro fondamentalmente è l'unica rivoluzione vittoriosa in occidente possiamo dire dal dopo guerra e sicuramente è una rivoluzione interessante perché si pone a cavallo tra quello che erano i residui dell'impero coloniale portoghese il regime fascista più lungo d'europa e in generale un clima dentro un clima di contestazione sociale che coinvolgeva tutto il globo sicuramente a livello continentale questo libro è interessante perché è un oggetto particolare nel senso che ha sia una parte di saggistica esplicitamente di saggistica sia una parte invece possiamo dire di cronaca diario perché parla della rivoluzione portoghese ma ne parla attraverso l'esperienza di una serie di militanti di lotta continua che hanno attraversato hanno partecipato in qualche modo possiamo dire alla rivoluzione ora come dite voi nell'introduzione del libro la cosa particolare è che della rivoluzione portoghese se ne parla poco che è abbastanza rimossa insomma sostenete che uno dei motivi principali è il fatto che appunto sia l'unica rivoluzione vittoriosa in occidente che quindi le sue caratteristiche intrinseca in qualche modo siano state rimosse dalla storiafia ufficiale e ne parlate ponendo l'accento su alcuni elementi che almeno dalla lettura che mi sembra di fare mi paiono molto di attualità nel senso che c'è una riflessione molto forte su come il rapporto tra diciamo le lotte di liberazione anticoloniali e la rivoluzione in occidente abbia avuto luogo cioè c'è un racconto di questo rapporto incentrato su il soggetto potremmo dire soggetto rivoluzione uno dei soggetti rivoluzionari che ha dato il via a questa rivoluzione infatti per chi non lo sapesse di fatto la rivoluzione portoghese iniziata dall'esercito dall'esercito che da diciamo la parte progressista dell'esercito che si è organizzato attorno proprio a questa stanchezza della politica coloniale del regime portoghese e questa rivoluzione dell'esercito ha aperto questo colpo di stato potremmo definirlo tranquillamente così in realtà ha aperto alla possibilità dello sviluppo di soggetti rivoluzionari popolari che in qualche modo per almeno un anno si sono presi la scena imponendo determinate insomma politiche tra cui la riforma agraria e molto altro quindi cosa dire è particolarmente interessante questo passaggio perché appunto ci parla dell'attualità ci parla della guerra ma ci parla anche di quello che è una trasformazione nella dimensione degli eserciti per certi versi ma anche di questo rapporto colonia e impero che in qualche modo ci parla anche della stanchezza degli stati uniti cioè dei militari statunitensi dopo i cicli di guerre che ci sono stati ci parla forse anche della fatica oggi degli stati uniti ad essere gendarmi del mondo proprio a partire da una reticenza sociale a intraprendere ulteriori conflitti diretti e quindi forse ci parla effettivamente del fatto che comunque i fenomeni sociali in qualche modo determinano ancora seppur non in delle forme esplicite e in questo caso comunque anche dentro il contesto dei militari una rigidità che è in grado di determinare dei processi storici chiudo su questo insomma andando poi sul rapporto con lotta continua si parla molto anche dell'esperienza italiana molto particolare dei proletari in divisa e di come si dialettizza con questa esperienza della rivoluzione portoghese e mi pare anche interessante la descrizione che viene fatta di questo processo di soggettivazione della partecipazione a una rivoluzione di una parte di lotta continua che come racconti anche tu un po' in realtà anche nella narrazione postuma dei leader di lotta continua viene sostanzialmente rimossa quindi ti chiederei di partire un po' intanto da un racconto del libro eccetera eccetera ma anche di un po' stare su questi temi su perché è venuta fuori questa esigenza di scriverlo e insomma questo per iniziare grazie Vincenzo, grazie agli organizzatori, grazie agli intervenuti io ho avuto la fortuna di vivere a 22 anni l'avventura della rivoluzione portoghese ma non ho voluto fare un libro nostalgico assolutamente come dicevo la nostalgia è sempre un po' canaglia ci frega sempre rischia sempre di farci rimpiangere anche cose che viste con occhio oggettivo poi non meritano nessuna nostalgia e nessuna rivalutazione la rivoluzione portoghese un po' la merita un po' la merita e prima di dire qualsiasi altra cosa vorrei dire che come ogni rivoluzione anche quella portoghese ha avuto una sua epica una sua epopea e Giulia Strippoli che è un'autrice ricercatrice torinese che vive a Lisbona è a circa la metà dei miei anni questo mi rende molto felice di non essere solo il vecchietto nostalgico che parla ma di vedere ancora un interesse in giovani ricercatori e militanti per capire come i movimenti si sono sviluppati ha aperto uno dei suoi due saggi il libro è fatto da due saggi suoi uno proprio sulle dinamiche della rivoluzione portoghese e il secondo su come lotta continua e il quotidiano trattò quella rivoluzione l'introduzione è mia e poi il diario che io definisco personalissimo finale quello che dà il titolo al libro è di nuovo mio però Giulia ha avuto il merito di concentrare tutta l'epica tutto il significato di quella rivoluzione in questa frase che è una frase o perlomeno un brevissimo discorso che un giovane capitano portoghese Salgheiro Maia nella notte tra il 24 e il 25 aprile del 1974 quando cioè avvenne il rovesciamento del più antico regime il più longevo scusate regime fascista d'Europa era durato l'estado nuovo di Salazar e poi nelle mani di Marcello Caetano dal 1932 al 1974 quindi parliamo di un regime fascista durato 42 anni ecco in questi termini si rivolse Salgheiro Maia uno dei giovani capitani d'aprile ai suoi soldati signori miei come tutti sapete ci sono varie forme di stato gli stati socialisti quelli cosiddetti comunisti gli stati capitalisti e lo stato a cui siamo arrivati ora propongo di porre fine allo stato a cui siamo arrivati perciò partiamo per Lisbona e facciamo la finita chi vuole con me chi vuole venga con me andiamo a Lisbona e la finiamo i volontari escano chi non vuole venire resti qui ecco qui è tutta concentrata la logica di quella rivoluzione una parte importante di giovani militari ufficiali e sotto ufficiali portoghesi che da anni combattevano nelle colonie africane ed erano le principali colonie africane portogallo erano Guinea-Bissau Mozambico Angola poi c'era Sao Tomé e Principe e Cabo Verde le tre colonie che avevano dato vita a una vera e propria lotta armata erano state Guinea-Bissau Mozambico e Angola l'Angola era stata la prima a insorgere nel 1961 poi magari dopo aggiungiamo degli altri ecco questi soldati dopo anni di guerra erano stufi erano stufi di fare il loro lavoro erano stufi di morire e uccidere per uno stato colonialista e fascista inizialmente la protesta partì dagli altri ufficiali il malumore che arriva poi a sfociare in questo 25 aprile del 1974 era partito dalle alte sfere ufficiali che si lamentavano per gli stipendi le solite balle dell'esercito in realtà non si rendevano conto che stavano aprendo la porta a uno scontento molto più profondo che era quello dei soldati di prima linea degli ufficiali che in Africa c'erano stati degli ufficiali e dei soldati che in Africa o erano morti avevano ammazzato e quindi questo è alla base della rivoluzione portoghese fu una cosa questo rovesciamento rapidissimo del regime fascista la chiamo rivoluzione perché ricordiamo sempre che rivoluzione è un termine che indica un ribaltamento totale di uno stato sociale di un'istituzione di uno stato e questo avvenne solo in Portogallo negli anni 70 in Italia abbiamo parlato tantissimo di rivoluzione ma non abbiamo fatto la rivoluzione perché non siamo riusciti abbiamo modificato molti aspetti della vita quotidiana della vita collettiva anche dal punto di vista del lavoro ma qui ci sarebbero delle spiegazioni importanti da dare su perché si riuscivano anche a fare così tante conquiste negli anni 70 nel lavoro e oggi non più ma in Portogallo ci fu la rivoluzione cioè quel regime fu rovesciato fu rovesciato come un calzino fu trasformato almeno per il primo anno e mezzo in qualcos'altro in una situazione di autentico doppio potere in cui non solo i consigli dei soldati ma anche quelli degli operai dei comitati di quartiere delle organizzazioni delle donne questo è importantissimo che spuntarono come funghi avevano nel gestire la società è chiaro che il Portogallo era un paese per certi versi arretrato era un paese povero oggi si direbbe di subimperialismo probabilmente una parte stessa della borghesia portoghese era stufa dei costi delle guerre africane perché non dimentichiamo mai un caso l'ha anticipato Vincenzo poco fa l'imperialismo una brutta bestia soprattutto per chi lo subisce ma poi diventa un costo enorme anche per chi lo esercita tutti i grandi imperi da quello spagnolo a quello inglese alla fine sono cascati perché gli costava di più mantenere il proprio predominio che non quello che tiravano fuori poi alle singole aziende parliamo degli Stati Uniti di oggi per molto brevemente alle singole aziende le multinazionali americane certo ci sono grandi vantaggi ma il costo complessivo per lo Stato americano per il governo americano delle guerre sempre più ampie diventa qualcosa di insostenibile se non capiamo questo non capiamo le potenti fratture gravi fratture che noi registriamo sempre di più all'interno degli Stati Uniti non è soltanto questione ideologica noi dobbiamo sempre cercare le radici materiali di quelle fratture e solo nell'impossibilità di governare il mondo proprio nel momento in cui gli Stati Uniti pensavano di aver vinto perché quando è crollato il condominio statunitense e sovietico sul mondo nel 1989 quando cioè gli Stati Uniti governavano gran parte dell'Ovest e del Sud e l'Unione Sovietica governava gran parte dell'Est ecco improvvisamente la scomparsa di quel consocio nella gestione dell'ordine mondiale è venuto a costare molto anche agli Stati Uniti e questo è uno dei motivi della crisi di adesso poi se ci avventuriamo in questo discorso apriamo un discorso geopolitico molto grande però è per capire quando io dico magari anche la borghesia portoghese era un po' stanca era dovuto a questi fatti però non si aspettavano di aprire una voragine del genere i soldati che non obbedivano più agli ufficiali gli operai che non obbedivano più ai fascisti e ai datori di lavoro i quartieri di Lisbona che insorgevano i braccianti dell'alenteggio che occupavano le terre e le donne che in un paese cattolicissimo dove saranno poi proprio i vescovi a guidare la riscossa reazionaria a partire dall'estate del 75 contro la rivoluzione cominciavano a organizzarsi ma sul piano formale non solo di diritti ma di asili mense cose che andavano ad aiutare le donne gli strati sociali più sfortunati a gestire la loro vita e furono le donne a prendere questa iniziativa quindi questa è una cosa molto molto importante quindi si incrociano una questione militare una questione politica una questione coloniale e anche la questione dell'organizzazione dal basso questo è importantissimo queste quattro cose furono per noi giovani militanti lotta continua fu l'unico partito italiano l'unica organizzazione di estrema sinistra italiana che col salvò l'occasione parlò subito dal 74 ebbe subito un inviato Franco Lorenzoni a Lisbona che cominciò a scrivere questi articoli e poi nel 75 alcuni di noi furono presi e comandati si direbbe ad andare in Portogallo perché c'era lavoro politico e altro tipo di lavoro da fare nella sede di Lisbona che avevamo aperto con l'appoggio dei militari perché per esempio gli anarchici questa cosa dei militari non la digerivano come è possibile che i militari facciano una rivoluzione e così altre formazioni di estrema sinistra e in realtà invece questa cosa dei militari mi permette di dire un'altra cosa che dico tutta nell'introduzione guardate che tutte le rivoluzioni del novecento o tutti i grandi ribaltamenti politici del novecento hanno avuto nella ribellione degli eserciti un elemento fondamentale è vero che c'è una storia che ci dice che il partito bolshevico ha fatto la rivoluzione del 1917 ma c'è una storia vera sociale concreta che ci dice che nell'inverno del 1916 17 un milione e mezzo di soldati senza che nessuno gli dicesse niente abbandonarono le trincee russe per tornare a casa perché dovevano andare a fare i contadini volevano tornare a casa quindi mettendo in crisi l'ordine dell'esercito zarista e nel febbraio del 1917 furono le giovanissime giovanissime operaie di Pietroburgo a proporre lo sciopero che poi diede inizio al movimento di febbraio perché le giovanissime operaie perché erano veramente operaie 16 17 18 anni che non avevano famiglia non avevano figli erano libere e potevano rivendicare e furono loro a far partire gli scioperi e il partito bolshevico fu contrario a quello sciopero tanto quanto quello menscevico questa è la questione guardate che fino ad aprile quando arriva Lenin e disse ai suoi compagni di partito sveglia qui è in corso una rivoluzione i bolshevichi tentennavano poi dopo c'è stata la sistemazione gloriosa poi a novembre la presa c'è il palazzo d'inverno però voglio dire quella rivoluzione partì dal basso dai soldati dalle donne dalle fabbriche furono i soldati a emettere l'ordine del giorno numero uno con cui si poneva fine all'obbedienza agli ufficiali e quindi allo zar nel giro di una settimana lo zarismo crollò lo zar provò a passare la patata bollente a suo fratello suo fratello lo guardò in faccia e disse ma te sei scemo non accettò l'incarico e diedero l'incarico poi a quella parte di borghesia democratica che fu rappresentata da Kerensky che rimase poi al governo fino poi all'insurrezione del 17 ma la rivoluzione comincia lì e comincia così e nel 17 i soldati italiani e francesi fuggirono i italiani a caporetto i francesi dalle trincee della Marna dicendo via a casa facciamo come in Russia poi qui non c'erano partiti non ci furono uomini in grado di dirigere a Torino nel 17 in questa città agosto 1917 c'è una grandissima insurrezione operaia fatta da chi? dai giovani dai bocia dai giovani operai delle officine che insorgono e fanno le barricate il partito socialista mica li appoggia anzi Turati e Kulishoff si scrivono tra di loro madonna se vincono queste noi siamo finiti e di fatti furono poi repressi ma visto che siete a Torino anche io sono originario di Torino le cariche di cavalleria in corso Giulio Cesare e in corso Vercelli contro le barricate degli operai e proprio queste cariche di cavalleria la mancata organizzazione dei socialisti dello sciopero fece sì che gli operai di Barriera di Milano e di Borgo San Paolo che erano insorti non riuscirono a incontrarsi quindi il centro della città fu tenuto e nel giro di una settimana l'insurrezione cadde non solo la guerra in Vietnam l'hanno vinta i Vietcong certo l'hanno vinta i Vietcong con gli americani che dal 73 cominciano a ritirarsi perché i soldati offroamericani lanciavano le bombe a mano nelle tende degli ufficiali bianchi non soltanto per gli studenti rifiutavano di andare a combattere e finiscono e a partire da Nixon si comincia a chiudere la guerra perché i soldati che tornano a casa non è che tornano e vanno a fare qualcosa vanno a manifestare con gli studenti contro la guerra e quindi in un paese in cui anche se la colpa veniva data a tutti i weatherman vi erano centinaia di piccole organizzazioni clandestine che arrivarono al punto di fare dei 20 e 30 attentati al giorno negli Stati Uniti questa è la storia che i Federico Rampini e gli amanti dell'America non ci raccontano ma che io sono qui per ricordare e tutto sommato anche la resistenza italiana poi chiudo ma è solo per fare degli esempi concreti è vero gli antifascisti tutto quello che volete ma furono i giovani soldati come mio padre che l'8 settembre una volta che si sciolse l'esercito preferirono ad andare in montagna con le loro armi a formare bande partigiane piuttosto che tornare a combattere per la Repubblica di Salò e essere deportati in Germania e la resistenza aveva bisogno come il pane di uomini e donne ma in quel caso molto spesso uomini che sapessero usare le armi perché quando noi ci trastulliamo con l'idea della resistenza della lotta dobbiamo capire di mezzo c'è un problema chi sa usare le armi chi sa smontare un'arma chi sa coprire il compagno sparando mentre l'altro si ritira perché quello si impara facendo il militare e non si impara così tanto è vero che uno storico serio della resistenza come Santopeli calcola che complessivamente nelle file ufficiali della resistenza militanti provenienti dal partito comunista o socialista o anarchici che avevano combattuto in Spagna quindi si erano fatti una formazione militare furono al massimo dai 6 ai 700 quindi tutte le altre migliaia di giovani che presero in mano il fucile o la pistola o la bomba a mano venivano dalle fila di un esercito infranto questo è molto importante perché quando noi oggi affrontiamo il problema della guerra che viene dobbiamo porci il problema del fatto che la guerra la cominciano i militari spesso per forza se sono di leva e spesso la finiscono i militari poi chiaramente con un appoggio massiccio popolare scioperi eccetera ma altrimenti questa cosa qui non si capisce il Portogallo lo spiega molto bene e io credo che questo sia il motivo per cui oggi 14 aprile non c'è un giornale che abbia fino adesso ricordato che tra dieci giorni c'è l'anniversario il cinquantenario di una rivoluzione che all'epoca fece scrivere al Financial Times nell'estate del 75 il capitalismo è morto in Portogallo ora dico poi quella rivoluzione è finita in una serie per una serie di motivi di forza della destra eccetera che nel libro vengono elencati ma guardate che un titolo del genere qui in Europa non l'abbiamo mai più letto non l'abbiamo mai letto il capitalismo è morto in Italia non l'abbiamo mai letto il capitalismo è morto in Germania abbiamo letto il capitalismo è morto in Portogallo e lo scriveva il Financial Times per il timore che quella rivoluzione che era nata un po' sommessamente aveva immesso nella borghesia europea ecco immaginatevi se questo aveva immesso timore nella borghesia quale speranza aveva acceso in una generazione di giovani potenziali delinquenti come dico io che avevano scoperto la rivoluzione cammin facendo guardate che uno dei motivi per cui ho scritto il libro in particolare il diario il diario è già stato scritto vent'anni fa in occasione del trentennale ma allora era peggio di oggi per trovare un editore è proprio questo raccontiamo davvero come si sono formati militanti quelle migliaia di giovani di lotta continua ma di altre formazioni che addivenirono poi a compiere tutta una serie di azioni scelte politiche sperando la rivoluzione perché spesso trovo ancora qualcuno alla mia età che dice io sono nato comunista e a me viene sempre da dire che è sfiga perché in realtà ci si divertiva anche molto era un modo di crescere chi aveva 15 anni nel 68 stava scoprendo tutto insieme il rock and roll il libero sesso la critica della famiglia della scuola e quindi anche dello stato borghese ma questo non lo trovava nei sacri testi di Marx una volta sono andato a sentire un concerto di Claudio Lolli Buonanima che ci raccontò che lui produceva i suoi tristissimi lui che aveva questi dischi tristissimi dei cantautori italiani dice quando io avevo 17 anni i miei amici andavano a Rimini a cercare le ragazze io stavo a casa a studiare i Grundris io pensai negli anni 60 uno che ha 17 anni sta a casa a studiare i Grundris ma la quinta è senza della sfiga non può proporsi come modello di una rivoluzione di un cambiamento sociale certo poi tutti a un certo punto abbiamo preso in mani i Grundris Lenin Marx e li rivendicherò sempre nella mia formazione ma se dicesse che mi sono formato e così migliaia di altri di lotta continua di potere ma non è vero era la scoperta di un mondo nuovo che si apriva e che scoprivamo immediatamente è limitato ma lo dico nel libro voi oggi ci sono questioni molto importanti guardate sono contento di parlare ai giovani perché voi state ballando sull'orlo ballando in termini politici sull'orlo di un abisso che noi quelli della mia generazione non hanno mai dovuto affrontare guerra questione climatica crisi e crisi economica generalizzata con lo spostamento fuori dall'occidente delle fabbriche eccetera non sono problemi da ridere però voglio dire noi eravamo in un mondo in cui nelle parrocchie dietro la porta d'ingresso c'era l'indice dei libri cioè tutto ciò che i giovani e i buoni cattolici non potevano leggere e c'era tutto tutto Tex Willer l'intrepido il monello cioè si potevano leggere il vittorioso come giornaletto dell'ecclesiastico e poi qualche furbone della Mondadori si tirò fuori il marchio GM che voleva dire garanzia morale allora Topolino aveva la garanzia morale si poteva leggere tutto il resto immaginatevi l'unità qualsiasi cosa Machiavelli era l'indice nel 1968 69 questo era il mondo con cui facevamo i conti e facciamo i conti noi studenti di periferia quei potenziali delinquenti che eravamo perché scoprivamo tutti insieme e vogliamo tutto di Balestrini spiega bene sia per gli operai che per noi quella sensazione che si aveva ma potemmo accedere alle scuole superiori soltanto perché nel 1963 c'era stata la riforma della scuola unica che aveva aperto la possibilità a tutti di andare con un'unica scuola media di accedere a tutti i tipi di scuola se no prima uno come me e tutti i miei compagni dell'epro saremmo finiti tutti all'avviamento professionale fine non si andava al liceo non si andava nemmeno all'istituto tecnico e questa fu una delle grandi contraddizioni che esplosero nel 68 perché quella scuola si trovò piena di giovani proletari piccolo borghesi di periferia e le scuole non ci volevano io mi iscrissi in prima liceo al Galileo Ferraris vista la zona di provenienza barriera di Milano via spostato subito al secondo liceo scientifico poi da lì mi mandarono al terzo liceo scientifico dovevano inventarsi le scuole così lì per lì non avevano nome alla fine io feci gli ultimi tre anni nel quinto liceo scientifico oggi liceo volta erano scuole senza nome senza identità perché al Galileo Ferraris al Segre al Cavour non ci volevano state fuori dalle balle per carità e allora cosa viene fuori e poi mi fermo un attimo che questo diario vuole anche essere un diario di formazione che non sia la solita storia dei leader dei leader di lotta continua dei leader di potere operaio dei leader della lotta armata fa lo stesso ma di coloro che dal basso diedero vita e fu dentro questi movimenti e ci si buttarono a capofitto compresa la rivoluzione portoghese che fu per certi versi uno strumento eccezionale per mettere in moto ancora di più il nostro immaginario rivoluzionario ecco questo è l'intento di questo libro di parlare di allora ma non con la nostalgia è successo così adesso probabilmente le vostre generazioni sono già arrivate a determinate scelte eccetera ma il percorso è diverso e le necessità i problemi le criticità sono molto diverse per cui se arrivasse qui uno a dire della mia età che dice no guardate noi abbiamo fatto in questo modo anche voi no non credete ci sono tutte storie perché ogni rivoluzione ogni generazione ogni momento storico magari si muoverà nella stessa direzione magari si muoverà ispirandosi che ne so a Marx o a Engels ma in modalità completamente diverse nuove questo è l'unico modo per sconfiggere il capitale perché se noi facessimo sempre lo stesso teatrino dei burattini e beh quelli da anni hanno imparato a controllarlo il teatrino dei burattini non a caso tutti quei leader di cui parlavo e di cui talvolta parlo nel libro poi alla fine sono arrivati a fare ben altre carriere e questo non è che lo dico da un punto di vista moralistico perché poi è così non è proprio uguale per tutti ecco intanto grazie vorrei chiedere intanto se c'è qualche domanda così su questa prima parte altrimenti vado io non c'è nessuno non vi vediamo tanto bene con i fari in faccia vabbè allora vabbè provo a mettere un'altra questione nel senso che mi pare molto interessante poi questa è una dinamica a cui tu non fai mi pare che non fate riferimento nel libro poi magari mi sbaglio me lo sono perso però per alcuni versi la dinamica del Portogallo è simile ad alcune dinamiche che si sono aperte successivamente in America Latina possiamo dargli in qualche grado un livello di similitudine però mi sembra che ci sia una differenza profonda dall'altro lato perché qui questa dimensione qua dei militari è una dimensione che si politicizza nel processo con l'emersione di appunto tutto questo tessuto sociale che si mobilita mentre in altri casi insomma ovviamente mi riferisco al Venezuela mi sembra che si sia data una dinamica leggermente diversa con forse una passività e una pur sempre un'attesione ideologica ma forse una passività maggiore ecco quello che ti voglio chiedere è appunto che l'impressione che si ha leggendo il libro è che ci fosse una forte compressione di queste forze sociali durante il fascismo portoghese ma che in qualche modo già ci fossero i presupposti di organizzazione sociale quindi non so se ci dai un po' un affresco appunto entriamo più sul soggettivo cioè di quello che avete vissuto e che avete visto durante questo processo e com'è stato in qualche modo relazionarsi con questa dimensione in cui lo spazio inizialmente è stato aperto dall'alto ma è stato riempito dal basso sì di simile con l'America Latina c'è il fatto che molto spesso in America Latina fin dall'ottocento alcuni rivolgimenti politici sono avvenuti con l'apporto dei militari sia che questi fossero di destra con i colpi di stato classico Cile Argentina e altri sia che un indirizzo di sinistra ma hanno sempre avuto comunque una sorta di imposizione dall'alto della scelta al di là dell'ideologia del socialismo cubano di altre cose che si sono collegate al Venezuela e altri paesi no come avete visto prima quella frase che vi ho letto prima ci sono stati socialisti ci sono stati comunisti ci sono stati capitalisti e c'è lo stato in cui siamo finiti noi adesso e facciamola finita con questo stato era oltre e a parte rispetto a questo e in questo era molto rivoluzionario perché non sceglieva obbligatoriamente un'ideologia di riferimento state cioè spesso in tutti questi moti caratterizzati da una forte ideologia socialista il peso dell'interesse sovietico cinese negli anni 60 70 non è stato indifferente e quindi il socialismo di carattere nazionale di origine del socialismo in un solo paese di Stalin ha finito col marchiare tutte queste esperienze perché se poi noi andiamo a interpellare e allora qui si rivendico Marx rivendico Engels rivendico Troschi rivendico Bordiga rivendico un sacco di autori allora il socialismo il comunismo internazionalista non è mai nazionale e questo è un fatto fondamentale che là dove ci leghiamo alla nazione all'interesse nazionale già stiamo rimettendo in piedi il vecchio capitalismo o l'interesse borghese non c'è altra cosa quindi c'è una differenza di fondo i soldati portoghesi non erano marcati molto erano ribaldi e ribelli e portavano il fazzoletto rosso al collo e avevano i capelli lunghi qui entro nel soggettivo che mi chiedeva Vincenzo avevano le barbe incolte e andavano in giro con la stella rossa messa sul basco ma perché pensavano che quello fosse tanto c'erano gli operai che occupavano le fabbriche Lisbona era l'unico polo industriale del Portogallo ma era un grosso polo industriale del Portogallo e spesso le fabbriche in cui andavamo anche a noi magari alle porte a dare il volantino esattamente come avevamo fatto a Torino ma andavamo anche lì o a portare il giornale lotta continua che uscì per qualche tempo anche in portoghese erano fabbriche dai nomi stranieri erano la Ford erano la GM erano la Opel erano tutte fabbriche stranieri che avevano aperto in Portogallo perché il costo della manodopera era basso per intenderci questi consigli operai nascevano all'interno di queste cose spesso il partito comunista portoghese fu contrario sia i soldati che soprattutto all'occupazione delle terre quando i contadini i branchanti da Lentejo cominciarono a occupare le terre il partito comunista portoghese cominciò a dire no noi siamo contro questo disordine che manda all'aria l'economia nazionale guarda caso non parliamo del partito socialista che poi divenne il primo partito di governo dopo la caduta dell'esperienza rivoluzionaria ma perché i soldati avevano messo fuori legge immediatamente tutti i partiti di destra e il partito socialista divenne un po' il ricettacolo delle forze di destra che si nascosero dietro a Mario Soares non erano messi molto peggio i marxisti e i ministri noi avevamo un avversario diretto nelle strade di Lisbona erano i marxisti leninisti filocinesi che dicevano che noi eravamo scimmie filo sovieti che ci definivano così contenti loro io sono contento però di poter dire dopo 40 anni che però loro hanno prodotto Barroso quello che è stato presidente dell'Unione Europea per vari anni negli anni 90 e 2000 era stato segretario dei marxisti leninisti portoghesi quindi come dico nel libro spesso le strade di un certo tipo sono veramente lastricate verso l'inferno cioè portano verso certe direzioni e quindi era una situazione molto contraddittoria il potere rivoluzionario come lo tastammo noi a Lisbona era basato sulle caserme di Lisbona l'antiaerea la polizia militare alcuni gruppi il genio i fucilieri altri reparti stanziati a nord non si erano espressi saranno poi quelli che nel novembre si muoveranno su Lisbona i paracadutisti della base di Tancos per esempio rimasero inespressi quasi fino al novembre del 75 io non c'ero più in quell'epoca ma non c'era più nessuno di Lottacontini in quell'epoca e tentarono loro di prendere il controllo della forza aerea che era ancora in mano diciamo alle forze più istituzionali e da quello partì proprio la controinsurrezione dell'altra parte del paese che pose fine a quell'esperienza però bisogna dire che c'è una grande differenza tra il centro e il sud del Portogallo e il nord del Portogallo il nord del Portogallo è noto per la produzione di vino il porto il vino do porto che viene ancora oggi prodotto spedito dalla città di Porto prodotto sia nelle grandi tenute sia nelle piccole tenute all'epoca i piccoli proprietari contadini non erano la stessa cosa del bracciantato agricolo del sud temevano che una rivoluzione portasse via i loro averi le loro vigne le loro cose e lì la chiesa dominava per raccontare un episodio divertente fino a un certo punto ma insomma lotta continua aprì questa stagione uno dei motivi per cui noi fumo inviati è perché i soldati avevano sequestrato i fratelli Espirito Santo una casa gigantesca nel centro di Lisbona confinavamo con l'ambasciata inglese però la nostra casa non era molto ben tenuta bisognava rimetterla a posto insomma siamo andati lì a fare i carpentieri siamo andati lì a fare gli agenti turistici siamo andati lì a fare i militanti facevamo un sacco di cose perché aprì quella stagione di venite in Portogallo il paese più libero del mondo e quindi si organizzarono voli charter di fatti se voi andate a vedere gran parte della memorialistica sul Portogallo compreso il libro e il film alla rivoluzione in due cavalli parte da gente che andò in Portogallo a fare le vacanze tra virgolette rivoluzionari in quel periodo però chi arrivava a Lisbona trovava una situazione alcuni compagni di Pinerolo finirono finirono invece a Porto non si capisce perché invece di venire a Lisbona andarono a Porto e questi tutti felici siamo nel paese più libero del mondo trovarono un camion di compagni che due partiti comunisti andavano in giro a fare propaganda bandiere rosse loro naturalmente saltarono su Camarada tutti insieme che bello che bello due incroci e al terzo saltano fuori gruppi di destra che saltano il camion menano tutti le rovesciano compresi i compagni di Pinerolo che arrivarono poi qualche giorno dopo a Lisbona diceva ma non ci avevate detto che Portogallo è il paese più libero del mondo sì a Lisbona funziona così da altre parti occorre stare attenti da altra parte anche alcuni compagni che andarono a dormire nei parchi pubblici di notte a Lisbona furono rapinate nei parchi pubblici di Lisbona di notte perché una città di un milione e mezzo di abitanti rivoluzione o no qualche malintenzionato che vede i giovani turisti che dormono tranquilli e beati sotto il pino con il sacco a pelo beh insomma due più due significava che qualcosa si portava via perché di gente povera in Portogallo ce n'era veramente molta questo era uno dei motivi per cui il regime non aveva mai pienamente conquistato la popolazione in cui sotterraneamente una forma di resistenza operaia sociale c'era sempre stata anche se il Pide la polizia politica controllava e governava in maniera molto chiuta a tutti d'altra parte la cosa più bella del Portogallo è che fu una rivoluzione che avvenne nel giro di pochi giorni senza grandi spargimenti di sangue quando c'è l'assalto alla caserma del Pide a Lisbona beh quelli della polizia sparano qualche colpo dalla finestra poi la gente entra in caserma e possiamo dire che fu una polizia politica sciolta schiaffi e calci nel culo fine adesso comandavano altri e un'altra storiella così voi sapete perché la Repubblica di Scalfari si chiama la Repubblica e in che anno è nato questo giornale guerra fondaio tutto tutto il peggio di tutto che si può dire del pensiero liberal correct falsamente democratico nasce perché a Lisbona esisteva un giornale si chiamava la Repubblica anche quello Repubblica ed era un giornale ecclesiastico subito nell'immediato come c'è questa rivoluzione i tipografi i giornalisti si staccano dalla chiesa e diventa il primo quotidiano autogestito portoghese autogestito in sostegno completo al governo del Copcon cioè del comando rivoluzionario militare e delle scelte che venivano fatti sia dagli operai dei comitati che dai movimenti anticolonialisti in Africa quindi un giornale che fa una svolta pazzesca era il vero anche se esistevano poi i giornaletti ML comuniste ma il vero portavoce della rivoluzione era la Repubblica e naturalmente la prima grande manifestazione di destra che viene organizzata a Lisbona nell'estate del 75 è proprio un assedio a Repubblica noi fummo chiamati a portare solidarietà questo giornale non so se qualcuno di voi è stato a Lisbona il giornale si trovava sopra Rossino nella collina sopra Rossino parte altra città e nella piazza davanti si concentrarono migliaia di anche lì falsamente socialisti ma di destra c'era rischio che saltassero il giornale alcune formazioni di sinistra la Lua e il Pierre Pebbier arrivarono lì pesantemente armate noi arrivamo lì solo con la solidarietà e ci chiedevamo cosa avremmo potuto fare in caso di assalto ma poi improvvisamente come in qualsiasi western di vecchio stampo arrivarono i nostri ovvero 6-7 camionette della polizia militare non di più ognuno aveva a bordo 3 o 4 di questi soldatacci cappelluti barbuti armati che cominciarono a fendere la folla con le armi spianate e si schierarono avanti a Repubblica nell'arco di 5 minuti la manifestazione si sciolse senza altro intervento c'era la paura da parte della borghesia che voleva minacciare in qualche modo chi si era reso indipendente un giornale era la Repubblica l'altra era Radio Renascenza che è quella che trasmetterà a mezzanotte del 25 aprile quella grandola Villa Morena che diventava l'inno della rivoluzione portoghese ed era una vecchia canzone proibita perché ricordava una strage di lavoratori nell'Alentejo e andava a sostituire il Fado perché io per esempio nel mio libro parlo molto di musica dico che conto molto nella nostra formazione rock and roll la musica americana che portava delle cose nuove ma anche in Portogallo ci fu una battaglia il Fado era la musica del regime Amalia Rodriguez la grande cantante di Fado era una fan del regime e quindi quando ci fu questo ribaltamento le radio portoghesi non trasmettevano più il Fado trasmettevano queste nuove canzoni popolari come Grandola Villa Moreno altre cose ma non il Fado e nel novembre del 75 quando ci sarà il controcolpo di Stato che rovescerà e poco per volta riporterà l'ordine le radio nuovamente istituzionalizzate riprenderanno a trasmettere il Fado quindi quando noi parliamo spesso noi di Carmilla parliamo dell'importanza dell'immaginario ecco per esempio la musica al di là dei testi o dei contenuti veri fa parte anche di questa battaglia in Portogallo ci fu anche questo aspetto non secondario e quindi noi giovani vivemmo questa esperienza sicuramente con grande entusiasmo a differenza di 50 anni posso dire certo non fu la guerra civile spagnola in qualche modo lotta continua fu un grande movimento capace di approfittare di quell'istante ma con quelle vacanze in Portogallo lotta continua riuscì a mandare il giornale avanti ancora per un anno insomma tappando dei bei buchi e cose di questo genere ma queste sono secondarie rispetto a quell'evento che oggi tarda ad essere ricordato e che come diceva Vincenzo prima gli stessi leader e storici di lotta continua non inseriscono le storie di lotta continua l'unico che ne ho parlato è stato Buonanima Luigi Bobbio che fu il primo a fare una storia di lotta continua per Feltrinelli e parlò dell'esperienza portoghese ma se voi andate a guardare l'ultimo libro di Guido Viale assolutamente non si accenna a Portogallo e se andate a vedere un vecchio libro uscito per Sellerio di Carlo Panella che fu il responsabile della sede portoghese di lotta continua oggi è da anni che è passato prima al berlusconismo poi alla destra in chiave decisamente anti-islamica eccetera nel suo libro Il Verbale uscito per Sellerio negli anni 80 dedica l'esperienza portoghese su 300 pagine e 14 pagine in cui è tutto teso a dimostrare che in Portogallo tutto si fece tranne che far politica quindi vedete che poi le cose come vengono narrate nel tempo anche da quelli che all'epoca potevano sembrare leader e protagonisti cambiano molto e vengono nascosti e questo è il motivo per cui io sono abbastanza contento di aver pubblicato questo libro e di poterne parlare con dei giovani con un pubblico magari in memoria di questi eventi Grazie mille adesso insomma aprirei a qualche domanda dal pubblico se ci sono curiosità riflessioni sia rispetto al libro sia rispetto anche diciamo al discorso più generale a questo intreccio in qualche modo tra storia militanza storie personali anche in qualche modo niente allora io ti faccio una domanda sulla relazione diciamo fra la lotta decoloniale in Africa quindi principalmente la rivoluzione angolana e la rivoluzione portoghese con diciamo un occhio ovviamente un po' malizioso rispetto a quello che sta avvenendo oggi credo in Niger no e tutto il crollo dell'egemonia francese ovviamente cioè poi magari sbagliando però mi è sempre sembrato che ci fosse un collegamento diretto fra la fine del insomma del colonialismo portoghese soprattutto non solo su un piano diciamo meccanico del mi va in crisi la mia fonte di guadagno in Africa quindi tutti scontenti iniziano a fare la rivoluzione in Portogallo ma un passaggio anche soggettivo di contaminazione fra i rivoluzionari angolani poi tutto il discorso della contaminazione cubana eccetera anche ingerenze sovietiche insomma nulla insomma è stato insomma va visto in maniera naif però c'è stata effettivamente dal tuo punto di vista una contaminazione anche soggettiva un livello di di conoscenze dirette che magari come militanti di lotta continua avete potuto trovare lì cioè come l'avete vista questa correlazione poi invece una domanda più generale come si può vedere in prospettiva questo rapporto in uno sconvolgimento di immaginare mi viene più che altro da dire rispetto alla situazione di adesso in cui effettivamente vediamo delle rivoluzioni che magari è difficile anche chiamare rivoluzioni adesso in Africa che però hanno come protagonisti questi eserciti che sono eserciti popolari mi viene a dire nel senso che contano in qualche modo una partecipazione proletaria di massa funzionano in maniera completamente diversa dai nostri eserciti occidentali che rapporto che similitudini ci sono su un piano soggettivo rispetto a quello che racconti nel libro prima di tutto ti ringrazio per la domanda perché mi permette di dire alcune cose che ho dimenticato di dire prima la prima è questa che se è vero che tutte le rivoluzioni del novecento o cambiamenti radicali hanno avuto origine spesso in un sedimento degli eserciti è anche vero che tutti i movimenti chiamiamoli così potenzialmente rivoluzionari successivi dagli anni sessanti in avanti hanno avuto origine proprio dalle lotte anticoloniali dalla lotta anticoloniale in Algeria per i francesi alla lotta anticoloniale in Vietnam a tutte le altre lotte anticoloniali che si sviluppavano in Centro America Sud America Africa e che influenzarono in qualche modo furono anche dei motori per le proteste qui io il paragone che posso fare adesso che vedo più vicino non è tanto con l'Africa ma quanto proprio con Gaza e i palestinesi quello che vedo succedere oggi nelle università italiane e americane in sostegno ai palestinesi mi ricorda molto quello che avvenne in quegli anni a sostegno del Vietnam e di altre lotte e non a caso i governi soprattutto quelli italiani al di là poi di chi promuove in alcune casi queste manifestazioni però il governo italiano in particolare è terrorizzato da questo di fatti ha già parlato di cattivi maestri e poi da quell'accusa folle che chi è antisionista automaticamente antisemita che si è arrivata a colpire persino gli ebrei ma anche gli ebrei che sono antisionisti diventano antisemiti capite che siamo nell'ottica della follia però la memoria storica borghese di una certa narrazione dell'immaginario borghese vede che nella ripresa di una coscienza anticoloniale nei movimenti soprattutto studenteschi odierni in America in Europa in Inghilterra in Italia in Francia c'è di nuovo qualcosa di simile a ciò che mise poi in moto il 68 perché tra i vari motori del 68 e degli anni precedenti prima di arrivare alla mobilitazione della classe operaia eccetera ci furono tutti i movimenti per i diritti in America i diritti civili e i movimenti anticoloniali poi in alcuni casi questi movimenti potevano essere in qualche modo sobillati dall'Unione Sovietica o da altri interessi per intendersi Angola in Angola c'erano tre movimenti che si contendevano l'Angola nella lotta il primo fu l'MPLA di Agostino Nieto che poi fu quello che vinse e fu quello sinceramente popolare poi vi fu l'Unita di Joseph Savimbi che in realtà un movimento finanziato dai cinesi ed era per questo che i filo cinesi in Portogallo non appoggiarono mai i militari e per finire l'FLNA di Olden Roberto che era un movimento appoggiato sia dagli Stati Uniti che dal Sudafrica perché l'Angola era veramente un po' come il Congo uno scrigno petrolio diamanti uranio tutto lo che volete quindi è chiaro che gli interessi al di là del popolo angolano di voler essere libero dal colonialismo portoghese vi era sicuramente anche questo interesse da parte di altri ad intervenire però quei moti anticoloniali furono motivo di ispirazione il mito Che Guevara nasce dal moto anticoloniale il 10 100 1000 Vietnam di Che Guevara è quello che ispirò moltissimo i movimenti degli anni 60 e 70 non c'è niente da fare raccontarla diversamente sarebbe una mezzogna credo che oggi rispetto all'Africa dove sta avvenendo qualcosa di molto interessante il paragone non possa essere consimile perché abbiamo comunque eserciti i cui comandi vedi il Niger si sono formati alla scuola americana europea cioè sono eserciti che funzionano realmente come eserciti e quindi anche se devo dire che una cosa che scandalizzerà molti ma dall'America latina all'Africa là dove manca ancora una borghesia degna di questo nome perché anche la borghesia ha una sua dignità quando intraprende una lotta di liberazione per dar vita a una nuova nazione eccetera spesso è l'esercito a sostituire la borghesia perché perché ci sono quegli ufficiali vale per alcuni casi in Sud America vale per l'Africa che si sono formati a determinate scuole hanno fatto i conti con certe idee e hanno cominciato magari a pensare che il loro paese starebbe meglio indipendente che non sotto leggi da francese o di qualcun altro oggi purtroppo tutto quello che succede in Africa lo vediamo è molto importante dal punto di vista geopolitico perché ci manifesta quella perdita di centralità dell'Occidente di cui ho avuto modo tante altre volte di parlare e quindi l'Occidente non comanda più facciamo finta di essere al centro del mondo ma non lo siamo più e quindi tutto quello che è avvenuto nell'Africa subsahariana è importantissimo di rivoluzionario lì per me c'è ancora ben poco perché immediatamente partono i francesi arriva la Wagner arrivano i russi e poi c'è sempre questa abilità dell'italietta giolitiana andreottiana fascista di inserirsi nelle crepe degli altri i francesi te adesso voi ci avete cacciati dalla Libia perché quello è successo con Gheddafi francesi e inglesi hanno cacciato l'Italia dalla Libia poi non l'hanno tenuta nemmeno loro perché l'hanno regalata a russi e turchi e si mangiano le mani ancora adesso però in Niger gli italiani possono rimanere mentre tutti gli altri vanno via però ecco entriamo più in un discorso geopolitico che è molto importante dal punto di vista storico politico economico generale però una vera lotta poi posso immaginare poi posso immaginare che il popolo del Niger di tutti gli altri paesi sia ben felice tutti i cartelli contro la Francia contro gli europei se vogliamo anche contro l'uomo bianco che va benissimo e questa egemonia dell'uomo bianco dovrà pur finire un giorno speriamo il più presto possibile ma in realtà troppo spesso poi accompagnato dalle bandiere russe o da cose di questo genere quindi nemmeno più la scusa che all'epoca c'era l'unione sovietica adesso proprio le bandiere russe quella di Putin insomma mi dispiace per tutti quei compagni che magari sono andati a combattere nel Donbass io non tifo per l'Ucraina ma non tifo nemmeno per Putin ecco siamo di fronte a due bei mostri rappresentanti in qualche modo di imperialismi diversi in cui il proletariato chiunque vada a combattere rischia di essere schiacciato questo devo dire sinceramente per cui se vedo le bandiere russe esattamente come quando in Tibet vedevo le bandiere americane la stessa cosa i ribelli tibetani che sventravano le bandiere americane e siamo a posto ecco se basta come risposta questa se invece ok ci sono altre domande io volevo chiederti invece se avevi voglia di approfondire un po' l'aspetto che citavi all'inizio rispetto diciamo all'organizzazione sociale che poi ha retto il processo rivoluzionario diciamo poi per quanto è durata facendo un po' un focus sul discorso della soggettività che oggi mi sembra comunque cambiato nel senso che prima parlavi dei giovani rispetto al fatto che ci fosse una pulsione rivoluzionaria a partire dal fatto che ci fosse tutto da conquistare rispetto a dei regimi che invece impedivano anche la scoperta di cose nuove un'epoca di innovazione e tutto quanto e quindi c'era anche quella pulsione lì adesso mi sembra la cosa opposta che quindi chi si pone quantomeno nell'ottica di interrogarsi sul presente perché poi di questo si tratta lo stato dell'arte attuale parte dal presupposto più che avere tutto da conquistare e non avere niente da perdere in un'epoca appunto di guerra dispiegata crisi climatica crisi che si vanno ad articolare su vari livelli quindi secondo me questo aspetto dell'organizzazione sociale sarebbe interessante approfondirlo proprio a fronte di un contesto che viviamo all'oggi estremamente atomizzato che queste strutture sociali le ha frantumate e che ha anche cambiato un po' quel processo che dicevi prima del fatto che i giovani poi questi di cui si parlava erano esclusi che poi nel momento in cui venivano integrati anche in dei contesti più istituzionali come la scuola che però erano delle conquiste delle lotte poi trovavano lì una rivalsa adesso anche questa cosa mi sembra va dall'opposto cioè che diciamo la controparte il sistema ha capito che questo sistema di esclusione non è vincente perché appunto i costi da sostenere per il sistema imperialista sono tantissimi e quindi anche il processo di integrazione è diventato un modo sia per diciamo spremere ulteriore ricchezza anche da quelle porzioni sociali che invece sono le minoranze per intenderci ma che poi sono anche un processo che serve fondamentalmente all'assorbimento di capacità di intelligenze insomma questa mi sembra una differenza molto grossa tra i due periodi che affrontiamo questo e quello di cui parli tu però appunto questa organizzazione sociale che può reggere un processo che va in una direzione rivoluzionaria mi sembra un aspetto abbastanza centrale grazie Sara è assolutamente vero intanto confermo parliamo del passato per parlare del presente in questo senso dico non voglio operazioni nostalgie non ci interessa parlare del passato quanto era bello il passato il nostro passato quanto fa schifo il nostro presente no parliamo del passato per capire il presente questa è sempre la cosa fondamentale all'interno di qualsiasi discorso di ricostruzione storica sia generale che soggettiva la differenza tra quel tempo adesso è fondamentale uno dei motivi intanto è questa perdita di centralità dell'occidente c'è un occidente che può comandare ancora con la forza con la finanza ma che al suo interno non può più distribuire ricchezza io nel libro lo dico noi nonostante tutto eravamo figli dell'età del benessere potevamo consumare scoprivamo il consumo se volete anche in chiave paradossalmente rivoluzionaria l'operaio non voleva più consumare soltanto il pasto pranzo e cena voleva l'automobile questo è uno dei motori della lotta noi giovani noi giovani volevamo ascoltare il rock and roll non che ci fosse proibito il rock and roll come a Torino dove era proibito e si ballava soltanto all'inizio degli anni 60 nel vecchio cinema ambra che era di fronte di fianco alla vecchia sede del partito comunista che proibiva insieme alla chiesa il rock and roll però nel cinema ambra allo spettacolo pomeridiano delle 16 non si proiettava nessun film andava un complessino a suonare e i ragazzi dell'epoca ero bambino quindi ci sono alcuni che lo ricordano andavano a ballare il rock and roll che era una grande scoperta perché il rock and roll era quanto di più fosse frenetico dal punto di vista dell'incontro tra ragazzi ragazze eccetera potesse esserci in confronto alle cose io ho in mente certe foto di feste dell'unità in cui in meridione d'Italia Sardegna in cui ci sono gli uomini che ballano tra di loro perché le donne al festival dell'unità non potevano andare non in rock and roll ballano i lenti capite che quindi c'era una grande differenza oggi quello per Dio è superata però proprio perché vivevamo quest'età di possibile noi possibilità rivoluzionari ne avevamo poche perché la rivoluzione non è un fatto soggettivo certo che c'è il fatto soggettivo della scelta la battaglia lo schierarsi ma le rivoluzioni avvengono nelle catastrofi non avvengono in pieno benessere perché pieno benessere alla fine il capitale non solo integrava noi nelle scuole e tutto sommato dopo potevamo trovare anche figlio di benzinaio divento professore di storia quindi è un passo avanti nella storia sociale della mia famiglia notevole così come poteva diventare ingegnere il figlio dell'operaio o altri e che adesso queste cose qui anche l'operaio alla fine le grandi battaglie io lo dico alcuni sembra una bestemmia ma insomma le grandi battaglie della Fiat meravigliose le abbiamo fatte le vittorie della classe operaria dei grandi stabilimenti erano rese possibili anche dal fatto che alla fine la Fiat qui doveva concedere le 50 60 70 mila lire d'aumento cioè voi immaginatevi fine anni 60 gli stipendi erano tra le 50 e 60 mila lire col primo contratto degli anni 70 dopo lo sciupero lungo la Fiat si passa 110 mila lire al mese si raddoppia quasi lo stipendio ma chi pagò le conseguenze di questo sicuramente gli operai degli stabilimenti Fiat in Argentina in Spagna in Polonia e in tutte le altre parti del mondo si concedeva qui il surplus che veniva estratto dalla forza lavoro non è che la classe operaia italiana fosse cosciente aveva lottato e aveva vinto ma oggi quando io dico che non c'è più spazio per l'ipotesi riformistica è che non ci sono più soldi non c'è più il plus valore che i cinesi tirano fuori del loro milione di operai lo tengono giustamente tra virgolette per loro non è che lo prestano un attimo alla famiglia Agnelli o a chi per lei affinché possa rimpolpare le tasche degli operai o a migliorare le loro condizioni di lavoro anzi assistiamo a notizie come quella di un paio di anni fa in cui Ikea è tornata a trasferire la produzione di rubinetteria che avveniva credo in Indonesia o da quelle parti dove in Piemonte nel Cuneese quindi vuol dire che non credo che gli stipendi di un operaio cuneese siano arrivati ai livelli di quello di un operaio indonesiano ma vuol dire che tra una cosa e l'altra non conviene più produrre là per poi pagare i costi di trasporto quindi qui si è abbassata il costo della forza lavoro e difficilmente potrà risalire guardate che proprio i tempi della crisi albanese parliamo degli anni 90 e c'è qui un mio consocio che all'epoca ha assistito alla mia relazione su questa cosa sulla crisi dell'Albania proprio in quel periodo il signor Tremonti scrisse su credo Aspenia o una di queste riviste Feoregne Effers che insomma bisognava portare la povertà dei paesi dell'est nelle tasche degli operai dell'ovest ed è quello che nei 30 anni successivi è stato fatto è stata disgregata la possibilità di unità degli operai smontare le grandi fabbriche lo sappiamo perché c'è gente che ha detto queste cose molto meglio di me in passato non è stato solo un atto economico produttivo eccetera ma è stato smontare delle autentiche fortezze anni 70 la FIOM aveva un giornale a Torino che si intitolava i 100.000 e chi erano i 100.000 erano i 100.000 operai che lavoravano alla FIAT 100.000 operai poi ogni tanto qualcuno adesso attenti attenti stanno per chiudere la FIAT quando sappiamo che a Mirafiori sono rimasti meno di 8.000 tra quadri operai la FIAT a Torino ha chiuso nell'80 smettiamo di raccontare però ha chiuso in maniera vincente per il padrone con anni e anni di cassa integrazione data agli operai che venivano lasciati a casa e che quindi tra una cosa e l'altra proprio di scendere di nuovo in piazza per fare grandi lotte mantenere il posto di lavoro molti sono tornati al sud molti sono andati a altre attività altri sono sopravvissuti ma insomma nessuno è morto di fame mentre invece oggi e quindi per noi era facile negli anni 70 lo slogan rifiuto del lavoro che rimane uno slogan fondamentale della lotta operaia ma per rifiutare il lavoro bisogna anche averlo mentre invece molto spesso siamo davanti a situazioni in cui si lotta a tutti i costi per avere il lavoro anche contro quello vicino il bianco contro il lavoratore immigrato l'immigrato con l'altro immigrato i magrebbini con gli indiani nel settore della logistica e così via quindi una disgregazione economica sociale che ha delle conseguenze poi sulla soggettività possibile o meno questo è in dubbio non c'è una cosa non c'è una una parola magica poi leggiamo quei giornali alla forza della classe operaia ma quando noi guardiamo a Trump smettiamola di guardarlo con gli occhi foderati dalle pelle di salame è vero cos'è Trump ma è vero che una parte della classe operaia o di ciò che rimane della classe operaia americana non solo bianca perché Trump è il repubblicano che ha avuto più voti afroamericani di tutta la storia delle elezioni americane guarda Trump come quello che può salvargli il posto di lavoro con le sue promesse fasulle così come era nata la fiducia della classe operaia del nord nella lega di bossi però una classe operaia che ha cambiato completamente prospettiva è una classe operaia che lotta per sopravvivere individualmente io ho scritto mille volte su Carmilla che la classe operaia italiana non è stata sconfitta dalla feroce repressione poliziesca è stata sconfitta dai mutui perché l'operario una volta che ha il mutuo sulla schiena il posto di lavoro deve tenere a tutti i costi e deve accettare tutti i compromessi possibili come già aveva fatto la classe operaia americana prima parlavo del Vietnam cosa vi ho detto che contro la guerra in Vietnam hanno lottato gli studenti i soldati gli afroamericani chi non ha lottato contro la guerra in Vietnam la classe operaia bianca che era felicissima di produrre armi e bombardieri a go go per la guerra che gli garantiva stipendi forti e posizioni che oggi quella stessa classe operaia non ha più se voi andate a seguire le linee del voto repubblicano vedrete che il voto democratico sta nelle zone di terziario avanzato oppure di zone di lavoratori immigrati con pochi diritti che sperano ma là dove c'è la classe operaia di un certo tipo o il piccolo proprietario terriero equivalente dei contadini che hanno protestato qui in Europa eccetera il voto va a Trump e non va a Biden quindi e allora cosa rimane oggi rimane che intanto noi siamo di fronte a una situazione catastrofica che all'epoca non era tale perché noi stiamo ballando sull'orlo della catastrofe la fine dell'eggemonia occidentale la competizione con vari competitor che possono non piacerci ma sono quelli che danno l'assalto a questa e sono la Cina la Turchia l'India l'Arabia Saudita l'Iran ne possiamo elencare un sacco e quindi la prima cosa che voi avete come giovani o abbiamo noi ma insomma sono piuttosto vecchio è la lotta contro la guerra abbiamo la catastrofe ambientale che al di là dei negazionisti eccetera è un problema che tocca tutta la specie questa e abbiamo una grande questione risolta che si è trascinata fin dagli anni che è la questione di genere che non è mai stata risolta e non è mai saltata agli occhi come in questo periodo una volta un po' perché era accantonata e non si vedeva lotta continua ebbe questo merito lo dico alla fine del libro fu l'unica organizzazione in cui alla fine di lotta continua esplose la questione femminile e molti all'epoca la rifiutarono ancora adesso c'è qualcuno che scrive libri per dimostrare che colpa delle femministe se è morto l'unico partito rivoluzionario in Italia ma almeno in quell'organizzazione che era molto attenta a cogliere novità si colsero elementi di novità che furono rappresentati dalle compagne di lotta continua che ricordo sempre a Roma furono caricate dal servizio d'ordine di lotta continua di Roma le contraddizioni che si portano che si porta avanti ancora adesso e spesso io vedo che le espressioni più radicali di opposizione a questo a questo regime sociale e alla guerra vengono dalle donne o dal transfemminismo più che da posizioni operali o d'altro genere queste sono le novità di adesso le novità e sono novità che non hanno più un luogo di aggregazione preciso la fabbrica no magari la scuola però il territorio diventa fondamentale e guardate aggiungo solo questo perché puoi dire anch'io ho studiato un po' di di compagneria marxista c'è stato un solo comunista in Italia che ha sempre detto che bisognava organizzarsi sul territorio e non chiudersi nelle fabbriche e l'ha detto fin dall'occupazione delle fabbriche in contraddizione con Gramsci che pensava che dalle fabbriche si costruisse il controllo operaio ci fu un signore Amadeo Bordiga il quale fu anche l'unico che negli anni 50 disse bisogna consumare di meno e produrre di meno mentre invece tutto il comunismo dell'epoca era per lo sviluppo produrre di più aumentare che disse queste due cose ora non vi chiedo di essere di essere di fede bordista però di riprendere delle cose che sono state in qualche modo sono state cancellate invece da una certa tradizione di sinistra lo sviluppo la fabbrica no è il territorio da questo punto di vista la lotta notare o i centri sociali quando funzionano si avvicinano di più un modello organizzativo moderno che non di quelli che gli propongono ancora il partito leninista o qualcosa del genere per far fronte alle esigenze di adesso e con questo credo aver detto tutto lo che potevo dirvi ok vedo Paco quanto è veloce la tua domanda va bene dai vieni allora Sandro ce la fai ancora ma io in realtà non è che avevo una domanda cioè non faccio nessuna domanda non volevo neanche fare nessuna considerazione volevo solo ringraziarti perché è stato bellissimo per me è stato bellissimo perché è stato come andare a trovare un nonno esperto che a cui piace parlare e che vuole lasciare qualcosa quindi a me questa sera hai lasciato qualcosa hai lasciato come dire l'ispirazione del ragionamento mi hai fatto ragionare a tantissime cose e su questo volevo solo ringraziarti e adesso ti ringrazio grazie a te e a tutti voi per la pazienza con il nonno appunto grazie mille ancora Sandro direi che abbiamo chiuso in bellezza questo festival se qualcuno vuole il libro ci sono lì al banchetto del senza insomma ripeto secondo me è interessante perché comunque ci sono degli elementi di attualità che siete stati bravi a includere in questa narrazione e nulla vi ringrazio ringraziamo tutti e tutte coloro che sono stati in questi giorni al festival ovviamente tutti i compagni e le compagne che hanno garantito la possibilità di costruire questi momenti e niente speriamo di rivederci l'anno prossimo forse spero di essersi anch'io ancora buonanotte